Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Il caso di oggi è davvero molto strano e ambiguo, a mio avviso. È un caso irrisolto, ma secondo me il triste epilogo non è così difficile da immaginare, ma come al solito andiamo con ordine. Oggi sono qui per parlarvi del caso di Bryce Laspisa. Bryce Laspisa è l'unico figlio di Michael e Karen Laspisa. Nasce il 30 aprile del 1994 in Illinois. Non molto tempo dopo essersi diplomato al liceo nel 2012, la famiglia si trasferisce in California. Questa situazione potrebbe creare difficoltà ad un adolescente che passa la sua vita a fine 17-18 anni di età in una cittadina specifica. Ma in realtà Bryce sembra riuscire ad adattarsi bene alla vita in California senza grandi problemi. È un artista di talento e si sta specializzando in grafica e design industriale al Sierra College, nella città di Rockland, situata nel nord della California. Va tutto molto bene, Bryce è un bravo studente e si impegna molto. Infatti, nonostante la sua giovane età, ha già un portfoglio ricco di progetti e lavori. Bryce è un ragazzo estremamente carismatico, ha un comportamento amichevole e aperto ed è solito mettere le persone a proprio agio. Durante il suo primo anno al Sierra College ha fatto amicizia con un po' di persone, ma soprattutto ha iniziato a frequentare una studentessa di nome Kim Sly. Alla fine dell'anno scolastico torna a casa dei suoi genitori a Laguna Naigal, a circa 794 km a sud dal suo college a Rockland. Bryce va d'accordo con la sua famiglia, ha un bel rapporto con i suoi genitori. Trascorre parte dell'estate a frequentare un corso d'inglese in un college locale. In questo modo inizia già a guadagnare crediti per ottenere la laurea. Il semestre autunnale inizia il 26 agosto 2013. Bryce frequenta un corso di web design quel giorno e durante la serata chiama sua madre per dirle quanto sia entusiasta di averlo iniziato. È un ragazzo ottimista ma soprattutto non vede l'ora di iniziare il nuovo semestre. Sembra che non ci sia nulla di strano e nulla di cui preoccuparsi quindi. Però coloro che vedono Bryce quotidianamente in realtà iniziano a preoccuparsi per lui. D'ormai due settimane il suo comportamento è davvero strano. Bryce non è un ragazzo cattivo, non è solito avere brutte abitudini. Insomma è un adolescente tranquillo di 19 anni che frequenta il college. Chiariamo, i suoi genitori non lo credono un santo. Sanno che ogni tanto beve e credono abbia provato anche a fumare. E non intendo sigarette. Però secondo loro queste sono le classiche cavolate che può commettere un ragazzo o una ragazza durante l'adolescenza. È normale ogni tanto sbagliare ed è anche giusto sbagliare perché solo in questo modo si può capire l'errore e prendere una via migliore. Il problema è che appena torna a Rocklin per il semestre autunnale Bryce inizia a bere frequentemente e quotidianamente. Ahimè durante i fine settimana arriva anche a scolarsi due o tre bottiglie di vodka mentre durante i giorni della settimana beve di meno ma beve ugualmente e sempre super alcolici. Questo comportamento non è assolutamente da Bryce quindi i suoi amici man mano che i giorni passano si preoccupano sempre di più e non capiscono cosa stia succedendo al loro amico. Di conseguenza sono anche parecchio confusi. Quando gli chiedono se c'è qualcosa che non va Bryce fa spallucce come se niente fosse. Non parla e le poche volte che lo fa dice che non c'è assolutamente nulla che non vada. La situazione diventa ancora più preoccupante proprio nel periodo in cui iniziano le lezioni. Martedì 27 agosto il comportamento del ragazzo se possibile è ancora più strano. Kim, la sua fidanzata, sa bene che Bryce nelle ultime settimane beve molto alcol. Ma quando lo guarda si rende conto che non è solo sotto effetto di alcol, c'è proprio qualcosa di strano in Bryce. Kim gli chiede come va ma non si dimostra preoccupata o almeno cerca di tenere un tono di voce neutro facendo finta di niente. E Bryce a sua volta le dice che va tutto bene, poi si ammutolisce. Kim prova ad insistere per tutto il giorno ma non c'è verso, Bryce non dice assolutamente nulla. Kim però non si arrende e anche dopo le lezioni durante la serata continua a fare domande a Bryce via messaggi. E alla fine il ragazzo cede le dice che ha assunto il Vyvance, che è un potente stimolante utilizzato principalmente per trattare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività nei bambini. Purtroppo questo tipo di medicinale diventa una sostanza popolare in molti campus universitari, in quanto fornisce una bella botta di energia che consente a chi la assume di non dormire per un bel po' di tempo. Tipo che si riesce a stare svegli anche per tre giorni di seguito. In pratica Bryce ha assunto questo medicinale perché durante la notte del primo giorno di lezione all'università è rimasto a giocare ai videogiochi con un suo amico. Ovviamente Kim gli chiede che succede e perché ha fatto ciò, perché si sta comportando così? Di tutta risposta Bryce con fare il quanto scocciato le scrive un messaggio dicendole che sarebbe stata meglio senza di lui. Quindi molla la sua fidanzata con un messaggio intorno alle 23 di quella notte. Arriva mercoledì 28 agosto quando Bryce chiama sua madre dall'appartamento di Kim che si trova a Chico, distante 145 km. Non è chiaro il motivo per cui Bryce sia da Kim, ma è chiaro che sia andato da lei dopo averla lasciata. E non è che sia andato a casa sua per parlarle, non è che abbia cambiato idea sulla rottura, anzi continua a rifiutarsi di fornire qualsiasi motivazione per la sua decisione a dir poco improvvisa. Preoccupata per il suo comportamento, Kim gli prende le chiavi della macchina e lo implora di dormire un po' prima di mettersi di nuovo alla guida. Bryce però le dice che rivuole le sue chiavi. Kim si rifiuta di ridargliele, quindi Bryce chiama sua madre lamentandosi di Kim e dicendole che non gli permette di tornare a casa. Kim quindi prende il telefono a Bryce dicendo a sua madre che suo figlio si sta comportando in modo molto strano e sospetto e non crede sia nelle condizioni di guidare. A questo punto Kim passa nuovamente il telefono a Bryce che parla di nuovo con sua madre, poi passa nuovamente il telefono a Kim. La madre di Bryce le dice di ridare le chiavi della macchina a suo figlio. Karen dice a suo figlio che può rimettersi alla guida solo se le promette che la richiamerà la mattina successiva. Kim quindi ridà al ragazzo le chiavi della sua macchina e Bryce riparte per le 23.30. La mattina seguente, il 29 agosto, i genitori di Bryce ricevono un messaggio automatico dalla loro assicurazione, la quale conferma che c'è stata una richiesta di assistenza stradale per uno dei loro veicoli. Confusi provano a chiamare Bryce chiedendosi se per caso avesse avuto qualche problema con la macchina il giorno precedente, tornando da casa di Kim. Sono sorpresi di apprendere dal suo coinquilino che Bryce non era affatto tornato a casa la notte precedente. Karen a questo punto prova a contattare Bryce al cellulare, ma lui non risponde. Quindi guardano online, chiamano l'assicurazione e riescono a risalire al nome del negozio di auto che ha aiutato Bryce, ossia il Castro Tire & Gas. Il ragazzo aveva chiamato l'assistenza stradale intorno alle 9 di quella mattina, dalla piccola città di Buttonwillow, a più di 563 km a sud dall'appartamento di Kim, che si trova a Chico. Era chiaro e cristallino che Bryce avesse guidato tutta la notte senza mai fermarsi. La sua famiglia nel frattempo prova a chiamarlo in continuazione, senza sosta, ma non ottengono risposta. O ha il telefono spento, oppure sta ignorando di proposito le chiamate dei suoi genitori. Michael, il padre di Bryce, a questo punto prova a chiamare la piccola officina che aveva risposto alla richiesta di assistenza stradale di Bryce. Christian, il dipendente che risponde alla chiamata, dice a Michael che Bryce era arrivato fino all'area di sosta di Buttonwillow prima di rimanere senza benzina. Quindi lui si era limitato a consegnargli tre galloni di benzina alle 9.30. Quando Michael dice a Christian che non riesce a mettersi in contatto con suo figlio, Christian si offre di tornare nell'area di sosta per vedere se Bryce, per caso, sia ancora lì. I suoi genitori non sanno cosa pensare, quindi sono immensamente grati a Christian. Ovviamente Christian nutre ben poche speranze e non pensa di vedere Bryce, anche perché sono trascorse tre ore dalla chiamata all'assistenza stradale. Insomma, Bryce, pensa Christian, sarà ripartito dritto verso la sua destinazione. E invece, sorprendentemente, quando si ferma all'area di sosta, vede Bryce seduto nella sua macchina nel punto esatto in cui si trovava quella stessa mattina. Bryce sembra sorpreso di vedere Christian, tanto più quando gli porge il cellulare e gli dice che sua madre vuole parlargli. Karen è ovviamente sollevata di sentire finalmente la voce di suo figlio, ma è confusa riguardo la situazione. Quando chiede a Bryce cosa stia facendo, lui non le risponde. Sebbene Bryce sia di poche parole e offra poche informazioni, la sua voce sembra chiara e non c'è nulla che gli indichi che sia ubriaco. Dato che il ragazzo è a tre ore da Laguna Naigal, ossia da casa sua, Karen gli dice che tutto ciò che deve fare è tornare sull'Interstatale 5. Sarebbe arrivato a casa davvero nel giro di poche ore. Karen ricorda a Bryce di fare il pieno di benzina alla macchina e gli dice che si aspetta di vederlo a casa entro le 15. Bryce ha consente, almeno dice a sua madre, che si sarebbe subito diretto verso l'Interstatale 5. Così il tempo passa, passa un'ora, passano due ore, passano tre ore e alle 15.30 di Bryce non c'è neanche l'ombra. I suoi genitori si preoccupano di nuovo e provano a chiamarlo di nuovo, ma anche questa volta Bryce non risponde al telefono. Al momento cercano di non farsi prendere totalmente dal panico, quindi provano a darsi delle spiegazioni. Magari Bryce è semplicemente bloccato nel traffico. Il problema è che le ore continuano a passare, Bryce non dà loro nuove notizie, non li chiama, quindi i suoi genitori decidono di contattare la polizia per denunciare la sua scomparsa. La prima cosa che la polizia fa, fortunatamente, è trovare la sua posizione tramite il suo cellulare. È a questo punto che la polizia scopre che, quasi dieci ore dopo aver chiamato l'assistenza stradale, Bryce è ancora a Baton Willow. A questo punto, due agenti della contea di Kern vanno a controllare se c'è qualcosa che non va. Cosa impedisce a questo ragazzo di tornare a casa? Bryce aveva riempito il serbatoio della benzina, così come gli aveva detto sua madre, ma invece di guidare per rimettersi nel traffico dell'Interstatale 5, si era fermato e aveva parcheggiato, praticamente all'entrata dell'Interstatale, su Lagoon Drive. Se Bryce è sorpreso di vedere gli agenti, è bravissimo a nasconderlo. Il ragazzo si pone in modo educato ed è collaborativo. Dice agli agenti che sta cercando di sfogarsi prima di continuare il suo viaggio verso casa. Questa per i poliziotti è una spiegazione più che ragionevole, ma vogliono ugualmente assicurarsi che il ragazzo stia davvero bene e che possa soprattutto rimettersi alla guida in sicurezza. Dunque lo fanno scendere dall'auto e gli fanno alcuni test per verificare che sia sobrio. E in effetti Bryce risulta sobrio. Bryce dice tranquillamente agli agenti che possono anche perquisirgli la macchina, se vogliono, e in effetti gli agenti lo fanno, non trovando assolutamente nulla. Nell'auto di Bryce non c'è nulla, niente sostanze, niente alcol e niente armi. Effettivamente Bryce non è minorenne. A 19 anni, ad essere onesti, non ha commesso alcun reato, dunque la polizia non ha alcun motivo per trattenerlo. Prima di lasciarlo andare, però, gli chiedono se, per favore, può chiamare sua madre. Il punto è che Bryce sembra davvero riluttante. Nonostante gli agenti gli abbiano detto chiaramente che sua madre è estremamente preoccupata per lui, alla fine uno degli ufficiali prende il cellulare di Bryce per chiamare sua madre in prima persona. Tranquillizza la donna dicendole che Bryce ha superato l'alcol test e sembra stia bene. Karen a questo punto parla brevemente con suo figlio dicendogli che ha bisogno di procurarsi qualcosa da mangiare prima di rimettersi in viaggio. Bryce risponde che avrebbe cercato qualcosa da mangiare e poi si sarebbe messo in macchina per fare ritorno a casa. Sono alle 22. Gli agenti a questo punto se ne vanno soddisfatti, convinti che Bryce sia finalmente pronto per tornare a casa. Nonostante ciò che Bryce ha detto a sua madre, un'ora dopo Christian, il dipendente della piccola officina che aveva risposto alla richiesta di assistenza stradale di Bryce, passa vicino all'entrata dell'Interstatale 5 e vede ancora Bryce in macchina. A questo punto Christian si mette nuovamente in contatto con la madre di Bryce, Karen, per avvisarla che la macchina di Bryce continua ad essere parcheggiata sul ciglio della strada. Christian a questo punto si mette in mezzo. Dice a Bryce che deve smetterla di far preoccupare inutilmente i suoi genitori. Gli fa una ramanzina e gli dice che deve salire sulla sua cavolo di automobile e tornare a casa dai suoi genitori, che lo stanno aspettando da ore ed ore. Gli chiede anche come mai se ne sia andato da casa, come mai sia scappato, ma di nuovo Bryce non risponde. Quindi Christian gli ordina di salire in macchina e di entrare nell'Interstatale 5. Bryce a questo punto si rende conto che non può continuare ad indugiare, insomma è giunto il momento di tornare a casa. Si ferma quindi ad una stazione di servizio a Buttonwillow, dove acquista da bere per 1,71$. Quindi si mette nel traffico nell'Interstatale 5 con Christian che lo segue per qualche chilometro per controllare che vada tutto bene. Quindi, 13 ore dopo il suo arrivo, Bryce lascia a Buttonwillow. Christian a questo punto chiama Karen per informarla che Bryce sta guidando, è sull'Interstatale 5 e si sta dirigendo verso sud, in direzione di Laguna Naigal. Ad un certo punto della notte Bryce si ferma ad una stazione di servizio e acquista benzina per un valore di 39$. Durante la notte usa ancora una volta l'assistenza stradale dei suoi genitori e ancora una volta viene trovato a Buttonwillow. È in quella zona da circa 13 ore e apparentemente non c'è una motivazione logica. Questa volta l'assistenza stradale segue Bryce sull'Interstatale per assicurarsi che guidi in sicurezza e che si diriga nella direzione giusta. Intorno all'1.50 di notte del 31 agosto Bryce chiama sua madre dicendole che è uscito brevemente dall'Interstatale. Non sa esattamente dove sia ma sta usando il suo GPS che stima il suo arrivo a casa per le 3.25 di notte. Bryce poi chiama nuovamente i suoi genitori alle 2.09 del mattino per dire loro che è troppo stanco per continuare a guidare. Quindi si fermerà per fare un pisolino. Karen e Michael dopo aver ricevuto l'ultima chiamata di Bryce sanno una cosa. Non riusciranno mai a dormire bene. Alla fine infatti riescono a riposarsi giusto qualche ora. Quando sentono il campanello suonare alle 8 del mattino successivo si guardano con sollievo. Aprono la porta d'ingresso aspettandosi di vedere Bryce ma invece si trovano davanti un agente della California Highway Patrol che è un'agenzia statale di pubblica sicurezza. In pratica è la polizia dello stato della California. L'auto di Bryce era stata trovata distrutta e abbandonata su una strada asfaltata che conduceva la rampa principale del lago Castaic. Era precipitato da un terrapieno di circa 8 metri prima di schiantarsi sulla strada sottostante. Tutti gli effetti personali di Bryce erano ancora nell'auto ma di Bryce non c'era traccia. Per la seconda volta in 12 ore Michael e Karen si ritrovano a denunciare la scomparsa del loro unico figlio. La città di Castaic si trova appena fuori dall'Interstatale 5 a 145 km a nord di Laguna Naigal. Le auto che viaggiano sull'Interstatale possono uscire su Lake Hughes Road che conduce su una collina fino al Castaic Lake Recreation Area, ossia un'area ricreativa. Ogni auto che passa su questa collina viene ripresa da una telecamera di sorveglianza che scatta una fotografia alla targa di ogni automobile. Alle 2.15, quindi pochi minuti dopo aver detto a sua madre che era troppo stanco per guidare, Bryce era passato proprio davanti a quella telecamera. Poi alle 4.29 Bryce era passato nuovamente davanti alla stessa telecamera una seconda volta. Non sono presenti telecamere che traccino le auto mentre scendono dalla collina, quindi non c'è modo di sapere per quanto tempo Bryce sia rimasto in cima alla collina la prima volta che è salito. Insomma, era impossibile sapere cosa stesse facendo Bryce e perché fosse andato su per la collina una seconda volta. L'ora esatta dell'incidente è sconosciuta, ma l'auto distrutta è stata scoperta meno di un'ora dopo che l'auto di Bryce è stata ripresa a salire sulla collina la seconda volta. Gli agenti infatti erano giunti sul posto prima delle 5.30 e non c'era traccia di nessuno vicino all'auto in quel momento. Sembrava non ci fossero testimoni dell'incidente, quindi la polizia aveva dovuto cercare di ricostruire l'accaduto. Una volta che avevano analizzato tutte le prove erano giunti alla sorprendente conclusione che ciò che era accaduto non era stato casuale né un incidente. Insomma, sembrava che Bryce avesse il controllo completo dell'auto e mentre accelerava verso il burrone aveva continuato a premere l'acceleratore. Gli investigatori dunque stabiliscono che Bryce aveva guidato su per la collina su Lake Hughes Road, quindi era passato vicino ad una torre cellulare, ossia una struttura che ospita le apparecchiature di comunicazione elettronica insieme ad un'antenna per supportare la comunicazione cellulare di una rete. Una torre cellulare è di solito una struttura elevata con l'antenna, i trasmettitori e i ricevitori situati nella parte superiore. Gli investigatori erano riusciti a seguire le tracce degli pneumatici della sua macchina fin oltre la torre e poi giù per il terrapieno stesso. L'auto aveva continuato ad accelerare fino a fermarsi sulla strada di accesso sottostante. Quando la polizia era arrivata sulla scena avevano trovato l'auto distesa su un fianco, sì ma intatta più o meno. Uno dei finestrini dell'auto era stato rotto dall'interno, dunque la polizia credeva che Bryce avesse rotto il finestrino per uscire dalla macchina. La maggior parte degli effetti personali, inclusi il suo cellulare e il suo laptop, sono stati trovati all'interno della sua auto. Il borsone di Bryce che contiene dei vestiti e il suo portafoglio era stato trovato per terra, fuori dalla macchina. Lo schianto era stato violento e probabilmente Bryce era rimasto stordito dall'impatto. Ma gli investigatori non credono che fosse rimasto gravemente ferito nell'incidente. Infatti avevano trovato solo alcune gocce del suo sangue sul sedile anteriore dell'auto e nient'altro. Non avevano trovato sangue sulla strada appena fuori dall'auto, non avevano trovato segni di trascinamento o prove che indicassero che Bryce fosse stato gravemente ferito e quindi fosse incapace di camminare. Al contrario, sembrava che Bryce fosse stato in grado di allontanarsi dalla sua macchina incidentata relativamente illeso. Ora però c'è una domanda. Dove diavolo era andato? Lo stesso giorno in cui viene trovata l'auto di Bryce, ovviamente, iniziano le ricerche. Decine di agenti perlustrano il terreno circostante il luogo dell'incidente e la riva del lago Castaic. Viene effettuata anche una ricerca nei campeggi vicini, mentre gli elicotteri conducono ricerche aeree. In realtà hanno una vasta area da coprire. L'area ricreativa del lago Castaic da sola copre quasi 18 chilometri quadrati e la sprezza del terreno lo rende un compito complicato. La squadra di ricerca e soccorso della Santa Clarita Valley arriva sabato per assistere alla ricerca e trascorrono 10 ore a setacciare l'area, ma non trovano traccia di Bryce. Nel bel mezzo della ricerca i vigili del fuoco della Contea di Los Angeles intervengono per affrontare un incendio nell'area circostante il lago. La causa dell'incendio è determinata, ahimè, da un corpo in fiamme. Fortunatamente per la famiglia il corpo si è rivelato non essere di Bryce. Quel corpo ben presto viene identificato ed è quello di Lamondre deon Miles di 35 anni. Il cadavere dell'uomo è stato crivellato di proiettili durante una lite per il mancato pagamento di un debito prima di essere scaricato e dato alle fiamme. Così i genitori del ragazzo usano i social per diffondere la notizia della scomparsa del loro figlio e le persone online si mobilitano immediatamente. Bryce con il suo sorriso amichevole e il suo modo di fare disinvolto non ha mai avuto problemi a farsi degli amici. Ora il suo sorriso amichevole sta conquistando degli sconosciuti su internet, che però fanno tanto anche solo ricondividendo la notizia. Entro poche ore le persone iniziano a contattare i genitori di Bryce per chiedere cosa possono fare per rendersi utili. Così la famiglia decide di stampare una grande quantità di manifesti con la foto di Bryce da dare ai volontari che li distribuiscono e li appendono. Una squadra di cani da ricerca viene portata da fuori lo stato per individuare Bryce. Quindi Kim scende nell'area di ricerca con in mano un paio di scarpe da ginnastica e dei calzini di Bryce, così da farli annusare ai cani. Alcuni cani rintracciano l'odore di Bryce vicino a Government Cove, dall'altra parte del lago. I subacquei, quindi, vengono inviati in quella zona. Si concentrano nelle zone poco profonde, vicino alla costa, poi metodicamente si fanno strada verso l'acqua più profonda. Ma non sono in grado di trovare nulla che indicasse che Bryce fosse stato nel lago. Mentre le squadre di ricerca e soccorso perlustrano l'area alla ricerca di qualsiasi segno di Bryce, gli investigatori iniziano ad interrogare alcuni amici di Bryce. Una volta stabilito con certezza che Bryce aveva volutamente accelerato lungo l'argine e si era schiantato sulla strada sottostante, gli investigatori devono prendere in considerazione la possibilità che Bryce possa essersi suicidato. I suoi genitori sono fermamente convinti che Bryce non si sarebbe mai tolto la vita, ma alcuni suoi amici del college, al contrario, non ne sono così sicuri. I detective inviati ad interrogare coloro che avevano trascorso del tempo con Bryce nei giorni precedenti la sua scomparsa, apprendono alcune cose inquietanti. Di tutti i suoi amici al college, Sean e Kim sono i due studenti con cui Bryce ha legato di più, ed entrambi avevano espresso preoccupazione per il suo comportamento prima che scomparisse. I ragazzi dicono agli investigatori che Bryce aveva iniziato a bere molto quando era tornato a Rocklin per il semestre autunnale. Sembrava preferire i superalcolici alla birra e poteva finire diverse bottiglie in un fine settimana. Non credevano che Bryce fosse un alcolizzato, insomma non sembrava che avesse mai avuto problemi con l'alcol in precedenza, ma era chiaro che era successo qualcosa nella sua vita che lo turbava. Kim dice agli investigatori che era estremamente preoccupata quando aveva saputo che Bryce stava assumendo anche del Vyvance, oltre a bere abbondantemente. La sua intera personalità sembrava profondamente cambiata da quando aveva iniziato a combinare l'alcol con questo farmaco, e questo l'aveva sfaventata. Ecco perché a quel mercoledì sera Kim gli aveva portato via le chiavi della macchina, non aveva nulla a che fare con il fatto che lui avesse rotto con lei. Aveva cercato di convincere Bryce a rimanere nel suo appartamento, perché sapeva che non era nella condizione di guidare, ma nessuno aveva voluto ascoltarla. Ed ora, col senno di poi, pare che Kim avesse una buonissima ragione per trattenere Bryce a casa sua. Anche Sean, l'amico di Bryce, era preoccupato. Dice agli investigatori che oltre a bere e a prendere quel farmaco, Bryce aveva fatto qualcosa di ancora più strano. Ossia aveva regalato delle cose di sua proprietà a cui teneva davvero molto. Bryce aveva regalato a Sean la sua Xbox con alcuni dei suoi giochi. Ovviamente Sean, davanti a quel regalo, si era sentito profondamente a disagio e aveva cercato in tutti i modi di rifiutare, ma Bryce non aveva accettato un no come risposta. Sean doveva prendersi la sua Xbox. Gli agenti ascoltano tutto ciò che Sean e Kim hanno da dire con molta attenzione e quando sentono che Bryce aveva regalato degli oggetti a cui teneva, in tutti gli investigatori scatta un enorme campanello d'allarme. Quando qualcuno inizia a regalare beni preziosi senza un apparente motivo, potrebbe voler dire che in effetti ha intenzione di togliersi la vita. Sa che non potrà mai più utilizzare quegli oggetti e quindi prima di fare il gesto estremo li regala a qualcuno a cui tene. Infatti Bryce non aveva di certo regalato la sua Xbox e i suoi giochi ad un conoscente, ma ad un suo carissimo amico. Oppure potrebbe anche voler dire che Bryce stava pianificando di scappare per ricominciare una nuova vita da qualche altra parte. Dare via ai suoi averi potrebbe essere un modo per lui di tagliare tutti i legami con la sua vita attuale. Se Bryce si fosse suicidato, il suo incidente con la macchina potrebbe essere stato un tentativo di suicidio fallito. È possibile che fosse sorpreso di trovarsi relativamente illeso in fondo al burrone. Questo potrebbe dare una spiegazione al perché Bryce, dopo essere uscito dalla macchina, si sia semplicemente allontanato senza prendere nulla delle sue cose. Alcuni degli investigatori presumevano che Bryce potesse aver lasciato la sua macchina e aver camminato per una distanza relativamente breve, fino al Lego Castaic per poi annegare. Ma come già vi ho detto, i subacquei avevano trascorso giorni nel lago alla ricerca di qualsiasi segno di Bryce, ma non erano stati in grado di trovare nulla che suggerisse che fosse finito nel lago. Alla fine la ricerca era stata interrotta e gli investigatori avevano concluso che Bryce non era quasi certamente nel lago. In effetti non credevano neanche che sarebbe stato trovato nella zona. Alcuni investigatori dunque credevano che Bryce avesse tendenze suicide, ma dato che non erano stati in grado di localizzare il suo corpo, erano costretti a considerare altri possibili scenari. Alcuni pensavano che Bryce avesse semplicemente scelto di abbandonare tutto e cambiare vita. Ma questa era una teoria che Karen e Michael si rifiutavano di contemplare. Erano fortemente convinti che Bryce li amasse troppo per pensare di scomparire volontariamente. Tuttavia, quando i segugi vengono portati nuovamente sul posto per vedere se riescono a captare l'odore di Bryce, le loro azioni confermano la teoria secondo cui Bryce ha scelto di scomparire. I cani questa volta sono in grado di captare l'odore di Bryce e seguirlo mentre si allontana dal luogo dell'incidente. Seguono la scia dell'odore fino a una diga sul lago Castaic, quindi proseguono lungo la carreggiata in cima alla diga. Una volta attraversata la carreggiata e la diga, gli investigatori credevano che Bryce, dopo aver fatto l'incidente con la sua auto, si fosse fatto strada attraverso il parco e fosse finito alla vicina fermata dei camion. Se avesse deciso di fare l'autostop e un camion che faceva lunghi viaggi gli avesse dato un passaggio, Bryce sarebbe potuto andare via e allontanarsi ancora prima che iniziassero le sue ricerche. Sebbene fosse certamente possibile questo scenario, secondo i suoi genitori non c'era alcuna ragione logica che avesse spinto Bryce a prendere questa decisione. Non aveva nessun tipo di problema legale, era un bravo studente che eccelleva il college e non c'erano problemi a casa. Aveva sempre mantenuto un rapporto stretto con i suoi genitori e sapeva di poter sempre contare su di loro, sapeva che loro l'avrebbero sostenuto e l'avrebbero aiutato sempre. Naturalmente anche se Bryce fosse andato alla fermata dei camion, non significava necessariamente che si stesse allontanando dalla sua vita. Anche se non sembrava che Bryce si fosse ferito gravemente quando si era schiantato con la sua auto, era possibile che soffrisse di un trauma cranico e non stesse pensando in modo chiaro e lucido. Quindi potrebbe essersi diretto verso le luci della fermata del camion nel tentativo di chiedere aiuto e magari gli era successo qualcosa proprio lì. Era anche possibile che un trauma cranico lo avesse lasciato incapace di ricordare il suo nome. Si era allontanato dalla sua auto senza prendere nulla delle sue cose, senza il suo portafoglio non aveva accesso ai contanti e non aveva nessun modo per provare la sua identità. Senza il suo telefono non aveva modo di contattare nessuno. Dopo due settimane la polizia annuncia che la ricerca ufficiale di Bryce verrà ridotta. Avevano perquisito a fondo tutte le aree in cui pensavano potesse essere Bryce, ma non avevano trovato nulla, non avevano prove che puntassero in una direzione e non avevano idea se Bryce fosse vivo o morto. Avevano perquisito a fondo tutte le aree in cui pensavano potesse essere Bryce, ma non avevano trovato nulla, non avevano prove che puntassero in una direzione o nell'altra e non avevano idea se Bryce fosse vivo o morto. C'è da dire che con i suoi cappelli rossi e gli occhi azzurri, Bryce spiccava sicuramente in mezzo alla folla. La polizia ovviamente riceve numerose chiamate da persone che credono di averlo visto, ma gli investigatori non sono in grado di confermare neanche un avvistamento. Potrebbe non esserci mai una risposta definitiva a quello che è successo a Bryce, anche se sembra probabile che non sia più in vita. È scomparso ormai da oltre sette anni e non c'è stato un solo avvistamento confermato. Se avesse scelto di scappare e ricominciare una vita da qualche altra parte, non sarebbe stato in grado di mantenere seguita la sua identità per così tanto tempo, almeno credo. Le sue informazioni ovviamente sono state inserite nel database nazionale delle persone scomparse e le sue impronte digitali, le cartelle cliniche e il DNA, sono tutte in archivio. I suoi genitori non hanno mai smesso di cercarlo e sperano di sapere un giorno cosa sia successo al loro unico figlio. Ora però mi restano un sacco di dubbi e non posso non fare neanche mezza ipotesi con voi. Inizio col chiedervi, secondo voi cos'è successo a Bryce? Perché aveva iniziato a bere ed assumere sostanze di punto in bianco senza dare alcuna visaglia di un turbamento in precedenza? È assurdo, da ciò che dicono i suoi genitori stava da dio, l'estate l'aveva passata a casa e si era portato avanti comunque con l'università. Era tornato sereno per il semestre autunnale e una volta lì aveva iniziato a bere come una spugna senza un motivo apparente. Mi chiedo, forse ha fatto qualche torto a qualcuno? Questo è possibile, ma non capisco perché non confidarsi con qualche affetto come la sua fidanzata Kim. Inoltre ho pensato anche ad un'altra cosa. Se una persona scappa per sparire, scappa, non sta per ore ed ore in una città a tre ore da casa sua parlando a spizziche bocconi con sua madre. Non ha senso a meno che non cercasse la motivazione, la forza per porre fine alla sua vita. Ma se si fosse suicidato, dove diavolo si trova il corpo e com'è possibile non sia stato mai individuato, sembra quasi che sia stato ucciso e sia stato fatto sparire. Ma le indagini indicano che è lui quello che si è allontanato dalla sua macchina a seguito dell'incidente, senza prendere uno straccio di effetto personale. Ha abbandonato tutto, dai documenti al cellulare al laptop. Stiamo parlando di un computer portatile. Ho anche pensato che forse doveva dei soldi a qualcuno, ecco perché stava scappando. Però poi ho pensato alla sua Xbox, che ha regalato al suo amico. Ora, se aveva un debito, magari l'Xbox provava a venderla, non la regalava. Oppure, il debito era così alto che l'Xbox non voleva neanche la pena di provare a venderla? Forse aveva provato a procurarsi dei soldi ma non c'era riuscito e il termine per restituirli era proprio l'inizio del semestre autunnale? Onestamente, questa è l'unica ipotesi che riesco a farmi venire in mente che stia un minimo in piedi. Ho anche pensato alla teoria del rapimento, però di solito a seguito di un rapimento c'è anche un riscatto. E poi perché avrebbero dovuto rapire? Nei cari, io davvero più di questo non so che dire, ma sono curiosa di sentire voi e le vostre opinioni. Secondo voi che cosa è successo a Bryce? Fatemi sapere quello che volete qui sotto, nei commenti. Vi giuro che sono curiosissima di leggere i vostri commenti perché in questo caso mi ha mandato ai matti. Ai matti, letteralmente ragazzi. Non capisco cosa possa essere successo a Bryce. Non riesco neanche a mettere in piedi delle ipotesi plausibili, onestamente. Io spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.